La tragedia della Sardegna vista da chi ama la Sardegna, da chi viene dalla Sardegna e ora vive in Piemonte. Enzo Cugusi è il presidente dell'associazione Quintales, una dell'associazione dei sardi a Torino. Il suo punto di vista su questa tragedia a distanza, vissuta da lei a distanza? Sì, a distanza non proprio perché poi noi siamo parte integrante del popolo sardo, anche se siamo qui in altra terra. La prima cosa è la solidarietà alle vittime, alle famiglie delle vittime. Ci sono 18 morti, forse 17, un disperso, ci sono circa 3.000 sfollati. Noi ci siamo mobilitati in una campagna di sottoscrizione innanzitutto, forse per domenica pomeriggio 24, riusciamo a organizzare un concerto di solidarietà proprio qui davanti al Teatro Reggio, all'aperto, per così sensibilizzare la popolazione e raccogliere i fondi che già si stanno raccogliendo all'interno del circolo e stanno anche vagliando le proposte di aiuto, però questo in sintonia con la protezione civile sia sarda che piemontese. Tra l'altro la Regione Piemonte ha già deciso l'impegno della protezione civile in Sardegna. La tragedia della Sardegna è una calamità naturale, ma forse anche l'uomo con la sua disattenzione ci ha messo del suo, purtroppo. Sì, c'è l'imprevedibilità, l'eccezionalità del fenomeno, però questo tifone, questo tsunami come si è chiamato, è andato a colpire le zone dove è maggiore l'aggressione al territorio. Ci sono zone della città di Olbia che sono costruite sotto il livello del mare, c'è stata un'urbanizzazione incontrollata e oggi ne paghiamo le spese. Ci sono altre zone dell'Uristanese dove i sindaci e la popolazione, giusto un mese fa, chiedeva alla Giunta regionale di togliere i vincoli idrogeologici per la costruzione delle sfonde fluviali, assumendo che questo torrentello mogro, così chiamato, non esondava da tempo immemorabile. L'altro pomeriggio è esondato e il comune di Terralba, questo è il nome del paese, è sott'acqua. Grazie.